Dalla primavera del Santoro Apostolo di Dio, in Italia, stata lontana, lontana, lontana di loro prima. Padre, come a persone intelligenti, giudicati voi stessi, i carici, 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 altri, i carici, i carici, i carici. Poi deve essere. Un solo Papa, non siamo nelle forti? Un solo corpo. Tutti i Pan icon si chiamano junni conagno. GuardateIST ADELIS i carici congno dalla pereza, La carne è santificata, ma sono forse con un uomo e con una parola. Che conseglie per dire che la carne è santificata al libro di male qualcosa o che un uomo non vale qualcosa? No. A Mio giù di San Comunizare, non c'è un uomo che amano a Mio. Non poter credere che la terra e la terra è verità di eterna. Non poter credere che la terra e la terra è verità di Ereffercio. O vogliamo convincare la giustizia del Signore, siamo forse più forti di voi. Allora di Dio. E diamo grazie a Dio. Anche il Signore, dirò cosa ti fici di rinanzamento. Che cosa non ero, il Signore, per quelli di rinanzamento. Che cosa non ero, il Signore, per chelli di rinanzamento. Alleluia, Alleluia, Alleluia.